Pompe di benzina fuorileggia, arresti per caporalato e vendita carburante sporco. Si rompe conduttura, allagamento alla torraccia, interruzione dell'acqua in diverse zone di Pesaro. Droga e armi, banda siciliana sgominata Urbino. Raccolta differenziata, dati confortanti per marche multiservizi. Petriano saluta la settimana da Capitale della Cultura con uno speciale gallo d'oro. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatori. Aspettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo della sera. Ben ritrovati a Rossini News, del giornale del Canale 80, che in questa edizione di martedì 6 febbraio apriamo occupandoci di cronaca, in particolare di una vasta operazione di Guardia di Finanza e Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Forze di polizia che hanno scoperto un sistema di sfruttamento di lavoratori nell'ambito di alcune pompe di benzina cosiddette nologo, ovvero non riconducibili a grandi società petrolifere. Caporalato, ma anche truffa, estorsione e vendita di carburanti sporchi potenzialmente dannosi per le stesse autovetture. Vediamo il servizio. Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza e i Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Pesaro Olvino hanno dato esecuzione di tre arresti, due con custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di tre titolari e gestori di una rete nazionale di distributori stradali di carburante. Sono stati anche sequestrati quattro impianti, tutti nelle marche, per un valore stimato di 2 milioni di euro. L'attività d'indagine, denominata Operazione Mandafoto, è stata avviata un anno fa e scaturisce dalle risultanze di una verifica fiscale in materie di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi eseguita dalla Finanza di Pesaro a un distributore rientrante nella categoria delle cosiddette pompe bianche nologo, vale a dire distributori senza marchio non appartenenti alle grandi compagnie petrolifere. Già nel corso della prima verifica fiscale i finanzieri avevano rilevato palesi condizioni di sfruttamento nei confronti dei dipendenti. Le conseguenti indagini hanno permesso di risalire responsabili dei reati di caporalato, estorsione, truffa e illeciti penali in materia di immigrazione e di lavoro individuati negli amministratori di una società campana di commercializzazione di carburanti e in un pesarese referente di zona con funzioni di caporale. Nel corso delle attività investigative è stato assodato come alcuni dipendenti fossero indotti anche sotto minaccia a svolgere massacranti turni di lavoro senza riposi, pause, giorni festivi, permessi o ferie. I datori di lavoro oltretutto elargivano stipendi a piacimento ben al di sotto del salario minimo. Grazie a numerosi servizi di pedinamento, intercettazioni e utilizzo di telecamere nascoste, gli investigatori sono riusciti a documentare lo stato di sfruttamento di lavoratori tutti extracomunitari che, sottopagati ed esposti a turni di lavoro incessanti, erano costretti anche a vivere in sgabuzzini interni ai distributori in precarie condizioni igienico-sanitarie. Lavoratori che erano anche obbligati ad attestare la loro presenza sul posto di lavoro attraverso foto o video che dovevano inoltrare ai loro datori. In pratica il datore di lavoro tramite WhatsApp con un testo manda foto richiedevano al dipendente l'invio di una foto o di un video a testimonianza della sua presenza sul posto di lavoro. L'inosservanza di quest'ordine si traduceva, nella migliore delle ipotesi, nella minaccia di sospensione di stipendio, di licenziamento immediato e, nei casi più gravi, i minacce di percosse o morte. Non solo, in più occasioni sono state intercettate conversazioni dove gli indagati davano indicazioni su come manomettere la corretta funzionalità degli impianti di erogazione o su come procedere alla mescola dei prodotti petroliferi. Ad esempio, i filtri sporchi o intasati non dovevano essere sostituiti ma forati. Se il carburante immesso in alcune cisterne non era qualitativamente buono, bastava miscelarlo con un'altra tipologia di prodotto. Dunque è stata attestata una volontaria, illecita, in missione in commercio di un prodotto sporco, non depurato, di scarsa qualità e capace di procurare danni reversibili al motore degli inconsapevoli utenti. Contestualmente ai sequestri e agli arresti sono state eseguite numerose perquisizioni nei luoghi di dimora degli indagati e presso le sedi delle società coinvolte nei comuni di Pesaro, Terre Roveresche, Caserta, Marcianise, Milano e Sperlonga in provincia di Latina. Nella tarda mattinata di oggi sotto l'autostrada A14 di Pesaro si è registrata una importante rottura della conduttura idrica di distribuzione in uscita dal serbatoio di San Gaetano che praticamente alimenta d'acqua tutta la città di Pesaro. Come potete vedere da queste immagini attorno alle 16 si è creato un importante allagamento nell'area di via Sandro Pertini, retrostante il ristorante American Graffiti sull'Interquartieri. L'acqua ha cominciato a defluire copiosamente da una centralina impianti con gli operai di Marche Multiservizi intervenuti per la riparazione del danno con tutti i mezzi e il personale a disposizione. L'entità del danno riguarda una valvola di 60 quintali fondamentale per l'infrastruttura. Il guasto però ha costretto gli addetti di Marche Multiservizi a interrompere l'erogazione di acqua in diverse zone della città per eseguire l'intervento di riparazione. L'acqua infatti in diversi quartieri di Pesaro ha cominciato ad avere importanti cali di pressione già dalle 17 e 30. Marche Multiservizi ha provveduto a informare tutte le utenze sensibili come ospedale e case di riposo e sta lavorando per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini ed eseguire i lavori nel minor tempo possibile. E questa mattina invece ad Urbino i carabinieri hanno fermato il componente di una banda di sei persone raggiunte da misure cautelare per traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Si tratta di una banda criminale che operava nella provincia di Siracusa e dalla cui procura è stato delegato l'arresto a Urbino nei confronti di uno dei componenti che si trovava casualmente nella città della provincia di Pesaro Urbino. Gli altri 5 arresti sono stati effettuati in concomitanza a Palermo e nella stessa Siracusa in un procedimento eseguito su delega della procura della stessa provincia siciliana. Nell'occasione sequestrati anche cocaina e hashish oltre ad armi da fuoco illegalmente detenute. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece al pauroso incidente stradale avvenuto ieri sera in autostrada A14 dove un camion autocisterna trasportante mosto ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e ribaltandosi. Il tutto è avvenuto in direzione Fano-Pesaro poco dopo il superamento del camion della galleria di Novilara. Fortunatamente non ci sono stati altri mezzi coinvolti. L'autista del veicolo è rimasto incastrato fra le lamiere e liberato dall'intervento dei vigili del fuoco per il successivo soccorso del 118. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona. Il tratto autostradale in questione è rimasto chiuso a lungo per la messa in sicurezza della carreggiata. E proprio questa mattina Marche Multiservizi ha anche presentato il suo decimo report sulle tracce dei rifiuti. Un report dal quale emergono dati importanti sulla crescita della raccolta differenziata che supera con abbondante anticipo gli standard richiesti dalla comunità europea. Con 12 anni di anticipo Marche Multiservizi raggiunge l'obiettivo europeo sul tasso di riciclo complessivo della raccolta differenziata. Un tasso che si attesta al 66% raggiunto nel 2022 rispetto alla soglia del 65% fissata da Bruxelles per il 2035. E' questo uno dei tanti dati emersi dalla presentazione del decimo report sulle tracce dei rifiuti quest'anno eccezionalmente divulgato da Marche Multiservizi in una scuola, ovvero l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Raggiunto il primo traguardo europeo, Marche Multiservizi scrutta già il secondo, quello relativo al tasso di riciclo di imballaggi, fissato al 65% per il 2025, quando Marche Multiservizi si attesta già al 60%. Dati confortanti che partono da una raccolta differenziata che nei 38 comuni pesaresi serviti dall'azienda ha raggiunto il 73,5% di raccolta differenziata di cui l'87% avviato a recupero. Parto subito dalla percentuale della raccolta differenziata che vede la provincia di Piusurvino al primo posto nelle province marchigiane, sopravvanzando di qualche decimo anche la provincia di Macerata che è stata per anni al primo posto, quindi abbiamo superato il 73,80% che è un dato molto lusinghiero. Oggi verranno presentati i dati invece di quelli che sono l'effettivo recupero e il riciclaggio delle materie che vengono raccolte, che è un dato anch'esso molto importante. In questi numeri abbiamo raggiunto quelli che sono gli obiettivi europei del 65% nel 2035, raggiungendo il 66% di tasso di recupero dei materiali, quindi siamo in ottima posizione e siamo in una buona posizione anche per raggiungere l'ulteriore e molto ambizioso percentuale del tasso di recupero degli imballaggi, anch'esso fissato al 65%, dove oggi siamo al 60% ma confidiamo di poterlo raggiungere. Marche Multiservizi ha illustrato agli studenti del Cecchi quantità e qualità di riciclo e recupero dei rifiuti differenziati oltre alla loro destinazione. Dal 100% del riciclo del legno raccolto ai dati che si attestano superiori al 90% per il riciclo di verde, carta, metalli, vetro e ferro. L'organico recuperato si attesta all'89% del raccolto, recuperato anche il 62% della plastica con un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. Numeri anche convertibili in benefici in bolletta, commisurabili ad esempio in 31 euro per una famiglia di tre persone risidenti in un appartamento di circa 80 metri quadrati. Questo è il luogo naturale dove fare questa conferenza stampa perché da tempo noi ci occupiamo di ambiente e di sostenibilità. Un'agricoltura sostenibile a mio avviso è alla base della nostra società, di una società che vuole futuro perché senza sostenibilità probabilmente e quindi senza rispetto delle risorse, senza risparmio delle risorse non avremo neanche futuro per le nostre generazioni. E tra i tanti temi e derivazioni del programma di Pesaro Capitale della Cultura 2024 si ritaglia una componente importante anche il mondo della scuola, in particolare quello della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi attraverso una serie di progetti e conferenze d'approfondimento illustrati questa mattina in municipio. Un 2024 all'insegna del protagonismo delle scuole, nello specifico dei servizi educativi del Comune di Pesaro che con questa campagna e questa serie di iniziative inaugurano ufficialmente un anno straordinario dedicato alla cultura, il 2024. La campagna Sono qui quando sono contesto con te, relazioni attente per il benessere delle bambine e dei bambini è un'iniziativa che si articola in diverse attività. Sabato mattina scuole aperte, rotazione, i nidi e le scuole dell'infanzia accoglieranno le famiglie, i turisti e anche i curiosi in attività e laboratori a loro dedicati. Appuntamenti con degli esperti per riflettere insieme sulle conseguenze che l'uso della tecnologia sta comportando e comporta per le nuove generazioni nel rapporto con gli adulti, lo faremo con degli esperti dal mese di marzo fino al mese di maggio e ancora l'inaugurazione nuovamente della mostra Arcipelaghi e oggi ho portato in giunta le linee guida che sono delle linee educative su cui il Comune di Pesaro sta investendo da anni che si vanno ad aggiungere le altre tre linee guida già depositate dedicate all'alimentazione e all'educazione all'aperto e nello specifico oggi abbiamo votato e approvato le linee guida dedicate al metodo Montessoriano e all'educazione delle scienze. Un universo che si esprime e che riflette sull'essere bambino e bambina e un impegno che quotidianamente portiamo avanti con le famiglie insieme per costruire un apesaro migliore. La campagna, sono qui quando sono con te sto con te, ha una campagna di consapevolezza, vuole rendere gli adulti consapevoli di quello che accade quando si hanno relazioni con i bambini che sono distratte dalla presenza di altre alternative, in particolare in questo caso parliamo dello smartphone o delle tecnologie che sono l'alternativa oggi più disponibile e più praticata. Quindi si tratta di rendersi conto che la distrazione, la relazione col bambino legata all'utilizzo di tecnologie digitali, ha degli effetti sullo sviluppo del bambino. Le conferenze che noi andremo a fare con tre esperti mettono a fuoco alcuni di questi effetti. La prima conferenza che sarà il 25 marzo con il dottor Montirosso, che è uno psicologo e psicoterapeuta, che ha come titolo Touchscreen Human Touch, l'impatto del digitale sulla relazione genitore-bambino e sullo sviluppo infantile, metterà a fuoco quelli che sono i risultati delle ricerche scientifiche e della riflessione psicologica sulle conseguenze per lo sviluppo, soprattutto dei bambini più piccoli ma anche in tutta l'età, dell'esposizione agli schermi, alle tecnologie digitali e della relazione tra adulti e bambini che si crea attraverso queste tecnologie. E restiamo in tema di scuola nel prossimo servizio e vi mostriamo invece una donazione da parte dei Club Lions di Pesaro nei confronti dell'Istituto Alberghiero Santa Marta. È stata una collaborazione che è iniziata quest'estate, abbiamo deciso di fare la festa degli auguri che è la festa natalizia dei nostri club insieme e di farla presso la scuola. Con l'occasione di questa festa abbiamo deciso anche di raccogliere attraverso una quota che pagano i nostri soci per la conviviale, oltre a fare una pesca di beneficenza per cui abbiamo raccolto una somma abbastanza considerevole, al fine di regalare alla scuola quindi di donare alla scuola delle divise da consegnare ai ragazzi che hanno più difficoltà ad acquistarle. Quindi loro dopo le danno, so, incomodato d'uso a questi ragazzi per permettergli appunto di avere la divisa come gli altri, di essere al pari degli altri. È stata un'iniziativa che abbiamo trovato un bel seguito da parte dei soci, abbiamo avuto un sacco di premi, quindi un sacco di biglietti venduti e siamo riusciti a fare una cifra notevole. Abbiamo speso parecchi soldi per questa scuola grazie ai fondi PNR, R-PON, quasi 600.000 euro però ecco la scuola come struttura. Invece quello che amo un po' dire io è che la scuola è soprattutto fatta di persone, di relazioni, in particolare gli studenti ma anche i docenti e quindi ecco si era deciso di fare qualcosa più che per la scuola ecco a livello struttura alla scuola persone. Nel bienio i ragazzi che si iscrivono in prima quindi in realtà fanno tutti e tre i percorsi che ci sono nella scuola, accoglienza turistica, sala e cucina e quindi comprano tre divise o meglio noi per cercare di evitare una spesa eccessiva cerchiamo di prendere dei pezzi che servono per una cosa e un'altra. Quindi di fatto noi riusciamo a coprire l'esigenza di sei ragazzi quindi ipoteticamente diciamo così tre divise per ogni ragazzo quindi ecco c'è stata una bella cosa e mi piace dire questo perché appunto siamo una scuola dell'ospitalità e dell'accoglienza e quindi dobbiamo viverla anche proprio con i nostri studenti. Quindi grazie ai Lions e questo penso di poter dire che sia l'inizio di una collaborazione che andrà ancora avanti con i Lions. Questa collaborazione iniziata e quindi concretizzatasi in un'occasione della festa degli auguri continuerà perché noi ci teniamo che questo istituto che è una realtà molto significativa di Pesaro quindi si sviluppi e cresca. La cucina fa parte del fatto culturale, fa parte della cultura quindi Pesaro che quest'anno è la capitale della cultura quindi ben si inquadra anche questo questo segmento insomma della nostra città. Dopo le dimissioni annunciate la scorsa settimana Laura Biagiotti storica presidente dell'ordine degli infermieri di Pesaro Urbino ieri ha passato il testimone a Marco Serafini ora presidente pro tempore fino a nuove elezioni. Serafini è attualmente infermiere coordinatore della sala operativa di Urbino e di Pergola. Questa mattina invece ad Urbino è stata scoperta la lapide che indica la casa natale di Paolo Volponi. Oggi infatti a cent'anni dalla nascita dello scrittore il comune ha reso omaggio al proprio concittadino. Le celebrazioni si svilupperanno nel corso del 2024 anche attraverso una mostra e un convegno realizzati dalla fondazione Carlo e Marisebo e dall'università degli studi di Urbino. Le immagini che vi mostriamo ora invece riguardano la recente spedizione della delegazione comunale di Monbaroccio a Madrid. Hanno infatti raggiunto la capitale spagnola le vicende storiche del convento del Beato Sante narrate nel diario di Alfredo Sarano, segretario della comunità ebraica milanese durante la seconda guerra mondiale e riprese dal libro scritto dal giornalista Roberto Mazzoli. Siamo qui siamo vivi. A Madrid c'è stata l'organizzazione della proiezione dell'omonimo documentario firmato dal regista Daniele Ceccarini in occasione del giorno della memoria lo scorso 29 e 30 gennaio. E si è conclusa la seconda tappa del progetto 50 per 50 capitali al quadrato legato a Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Dopo Vallefoglia il secondo comune capitale è stato Petriano che per l'occasione ha creato un'edizione speciale del noto festival Canoro il Gallo d'Oro. Ne parleremo in uno speciale dedicato che Rossini TV trasmetterà domani 7 febbraio alle 21 e 40 ma intanto vi forniamo alcune anticipazioni in questo servizio. Amiche amici di Rossini TV siamo al Gallo a Gallo di Petriano per la seconda delle settimane 50 per 50. Questa è la settimana nella quale Petriano e il suo territorio è il capitale italiano della cultura insieme naturalmente a Pesaro 2024 e in questa settimana Petriano ha tirato fuori il meglio di sé e naturalmente nel meglio di sé non poteva mancare il Gallo d'Oro. Questa sera Gallo d'Oro Limited Edition che a me piace chiamare Gold Edition visto che si parla del Gallo d'Oro appunto e andiamo a seguirla dalle parole, dalle immagini, dalla musica di questa straordinaria serata. Il Gallo d'Oro esiste dal 1966, è un patrimonio del nostro paese, è un patrimonio di Petriano, è un patrimonio dei gallerini. Più volte ci siamo messi a ipotizzare anche con la Proloco di fare un libro nel quale mettere dentro tutti gli aneddoti perché esistono poche famiglie al Gallo che non hanno niente da raccontare se gli chiediamo qualcosa del Gallo d'Oro quindi ci sembrava opportuno, ci sembrava ovvio che questa manifestazione di cui noi siamo molto orgogliosi si mettesse in vetrina nell'ambito del progetto Pesaro Capitale della Cultura 20-24. Si sente molto la responsabilità e il dovere di non fare mai cadere questa tradizione. Penso e lotto ogni giorno affinché questo possa durare perché comunque sono rimaste poche le cose in cui credere o alle quali legarsi. Una tradizione così bella dove ci sono passati i padri, i nonni e adesso arrivano i nipoti, penso che sia proprio il caso di portare avanti, di farla vivere. Ringrazio particolarmente il Comune di Pesaro per l'idea avuta due anni fa, tutti ci abbiamo creduto, era un'idea in fase embrionale che poi ci ha rilevato invece un'idea vincente piaciuta non solo qua localmente ma anche a livello nazionale tant'è che ho incontrato alcuni amici a Roma e addirittura hanno detto finalmente un territorio che si unisce e non solo un'unica città. Quindi complimenti per l'idea perché è veramente un'idea vincente a cui tutti teniamo particolarmente a fare questa bella figura. E' sempre un contesto dove i sogni dei ragazzi che vengono seguiti in questi contesti musicali sono molto importanti quindi è sempre bello vivere queste emozioni insieme a loro e sono felice di essere qua di nuovo al Gallo d'Oro anche quest'anno. Questo per me è il secondo anno dove io faccio un po' da testimonia dal Gallo d'Oro un po' per conto del Festival di Castrocaro di cui io sono il delegato per le Emilia Romagna e le Marche. Quest'anno abbiamo fatto un lavoro bellissimo perché proprio dal Gallo d'Oro abbiamo tirato fuori una band che sono i Senza Volto che sono arrivati in finale a Castrocaro quindi è stata una soddisfazione che ci ha riportato a tornare qua e a portare insomma quella che è la mia esperienza. Io in questi vent'anni ho visto veramente muoversi su questo palcoscenico tanti ragazzi che hanno portato le loro musiche proprio personali poi hanno cantato anche delle cover ma si cimentano molto in queste manifestazioni e ci portano tanto. E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News. Continuano però gli spazi informativi in questa serata perché subito dopo il Tg alle 20.10 andremo a scoprire alcuni approfondimenti della spedizione della Regione Marche alla BIT di Milano 2024. Appuntamento oggi alle 20.10 e poi la replica anche questa sera alle 22.10. Spazi informativi anche con la politica perché questa di martedì è anche la serata di Amministrando il nostro focus di approfondimento verso le elezioni 2024. Oggi si parla di sindacati e associazioni di categoria, quella di CGL e di Confindustria attraverso le interviste incrociate da parte del nostro Luigi Benelli nei confronti di Roberto Rossini, segretario generale della CGL provinciale e Andrea Baroni, direttore di Confindustria Pesero e Urbino, amministrando appuntamento come detto alle 21.20. E poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che domani, mercoledì 7 febbraio, sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Si conclude invece qui Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.